Grazie Sesta corsa di Palermo, corsa nazionale, femmine di 4 anni al via, ancora una volta fallosa in fase di allineamento Raissa Desi, andiamo al momento dello stacco, ottima partenza di Rita Di Sgrey al cui esterno dovrebbe avere via libera in poche battute Ruggiata SMS che se la prende comoda nell'effettuare il sorpasso anche perché Rita Di Sgrey in testa non corre, dunque Ruggiata SMS riesce a guadagnare il comando nei confronti di Rita Di Sgrey mentre deve ripiegare in terza posizione il numero 7 di Repetita RL, c'è l'errore di Romantic, ha sbagliato anche ed è stata squalificata se non abbiamo visto male Replica RL e in avanti c'è Ruggiata SMS che comanda, c'è anche l'errore di Ratatouille Font che comanda ad andatura visivamente non particolarmente veloce comunque 45 scarsi per i primi 600 metri, per linee esterne si profila adesso l'attaccante Riviera che raggiunge e supera Repetita RL e si profila ai fianchi di Rita Di Sgrey ma sbaglia Riviera all'imbocco della seconda curva e quindi può continuare a comandare senza essere granché disturbata la capofila Ruggiata SMS adesso a venire avanti è Roger RL con Giuseppe Porzio Junior, cavalla che aveva corso molto bene, lo dicevamo in presentazione all'ultima uscita 16 molto scarsi, direi 15 e mezzo il primo chilometro per Ruggiata SMS che si fa adesso avvicinare da Roger RL nella cuscina tale cintura pone Repetita RL mentre comincia a perdere contatto Rita Di Sgrey, più indietro l'1 di Royal Cosmos Bigi ed il 5 di Rania e siamo alle battute conclusive con Salvatore Rosa Junior e Giuseppe Porzio Junior alle prese tutto braccia per cercare di portare a casa il successo siamo alle battute conclusive, non sono state mai due quart di Leone né Ruggiata SMS né Roger RL alla fine Ruggiata SMS che stacca e va a vincere chiaramente nei confronti di Roger RL e di Repetita RL ha vinto dunque la favorita Ruggiata SMS che ha chiuso addirittura sotto pari 1,80 la quota Salvatore Rosta Junior in sediolo, i colori sono quelli del signor Simone Ciappa il training di Matteo Di Meo, sul mio cronometro un tempo un filino sotto i due minuti per la vincitrice buon secondo posto di Roger RL che ha confermato di essere tornata in gran condizione e terzo posto per una non del tutto convincente ma comunque positiva Repetita RL in numeri 6, 10, 7 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficiale